Grande festa per la Salernitana Calcio, i tifosi hanno soffiato insieme sulle candeline per i 99 anni del Cavalluccio Marino. Si è svolta la tradizionale marcia dei tifosi della Salernitana, ultima in doppia cifra prima del tesissimo centenario del 2019. Le celebrazioni sono iniziate ieri sera dopo le 18 da Piazza Casalbore all'ombra dello storico stadio Donato Vestuti. Tanti i cori per l'ex attaccante Granata Giovanni Pisano, poi sciarpe al cielo, bandiere e slogan per dimostrare l'amore dei tifosi per la squadra e la maglia Granata. Adesso si aspettano i cento anni e magari la promozione in A.